Musica Potente appara ragazzi, qua ho Axel, oggi oh my god, oggi sono da sole e sono qui ragazzi a presentarvi uno squad builder che avrà un qualcosa di fantastico Perché infatti questa qua è una squadra costituita da toti ma anche da giocatori buggati, cioè è una sorta di best team of the year, best team of the year hybrid, cioè veramente è un qualcosa di fantastico Però prima di farvela vedere vi devo dire come sempre un po' di cose, la prima è che come sempre vi volevo ricordare di passare da onefifa.com se siete interessati a comprare anche di FIFA e mi raccomando utilizzate il codice Axel con 2 come discount code Come seconda cosa vi volevo dire che a breve uscirà il trailer del mio montaggio che farò su Call of Duty editato dal fenomeno orgasmic quindi mi raccomando stay tuned, anzi stra tuned Come ultima cosa vi volevo ringraziare come sempre per tutto il supporto che mi state dando, ormai siamo una ruota, non smettiamo più di girare quindi mi raccomando anche questo video deve raggiungere i 4000 mi piace Ma tanto so che la squadra sarà così bella, sarà così fantastica, avrà un feedback così positivo che il video li raggiungerà a 5000 Questo è un messaggio subliminale per dire che questo video deve raggiungere in poche parole i 5000 mi piace Detto questo ragazzi passiamo alla squadra Guardate un po' che roba Come al solito è un 4-3-1-2 perché è un modulo con cui mi sto trovando veramente bene Ma guardate un po', cioè abbiamo come due team of the year i team of the year che ho trovato nei pacchetti che sono Sergio Ramos Totti e Crustotti E poi abbiamo anche giocatori buggati quale Ibarbo, Rodrigo che è un fenomeno e poi Enzo Perez che è un bomberissimo Cioè veramente è qualcosa di fantastico questa squadra ma andiamo ad analizzarla un attimo con più di calma In porta utilizziamo Casillas costando circa 4000 crediti, io l'ho trovato nei pacchetti Bastanza buono come portiere, fa il suo lavoro diciamo così come difensori centrali Troviamo secondo me la difesa più forte di questo gioco Infatti da una parte troviamo Ramos team of the year che ho trovato nel pacchetto Che è altro che un muro, è tipo un cemento, un cemento armato veramente è un qualcosa di in arresto Non ve ne fa passare uno Affiancato poi da Rafael Varane Che ragazzi è un difensore che innanzitutto costa poco perché all'incirca si trova tra i 1000 e i 2000 crediti Ma che poi è un fenomeno sia nei colpi di testa sia a difendere in generale Veramente un giocatore che mi è piaciuto un macello lo riprenderei anche se costasse 200.000 crediti Veramente, Rafael Varane è una bestia Passiamo un attimo ai terzini Da una parte troviamo Calimero Armero che costa lui sì tanto perché alla fine è un argentone baggato È una gazzella a 89 di velocità Si fa tutta la fassa in due secondi L'unica cosa non ha un buon tiro Non è così importante la statistica del tiro per i terzini Come altro TD utilizzo Joao Pereira Che se devo essere sincero si poteva anche sostituire con Carvajal oppure Arbelò Ma sinceramente lui fa il suo discreto lavoro Costa sui 900 crediti Quindi trank Passiamo un attimo al centrocampo Da una parte abbiamo il Jaguaro Guarin Che costa anche lui 3.000 e 2.000 crediti Quindi alla fine questa squadra È anche una squadra non molto costosa a parte i toti Se voi non avete i soldi non volete comprarli su OneFIFA Cosa potete fare? Potete prendere le versioni non toti Dei giocatori toti che io utilizzo Quindi una cosa veramente semplice Comunque Guarin giocatore veramente completo Alla fine ha quasi tutte le statistiche sull'80 tranne la difesa E invece questo giocatore qua è Pazzesco Tony Cruz toti C'è ragazzi Lui è un fenomeno L'unica pecca è forse la velocità Ma fa di quei passaggi Che boh scandalosi Poi anche 5 stelle di piedi debole Ma se devo essere sincero Ciò che mi ha più colpito di questo giocatore È il suo colpo di testa Li prende tutti Poi abbiamo il centrocampista Mio preferito Perché è baggatissimo Enzo Perep del Valencia Perché infatti lui prima giocava nel Benfica Ed è per questo che l'ho pagato così tanto Ragazzi è una bestia Provatelo assolutamente Passiamo un attimo all'attacco Come COC utilizzo Ames Rodriguez Beh ragazzi Ames Rodriguez sinceramente me lo aspettavo forte e ha dimostrato di esserlo Anche se non è questo gran fenomeno che magari si pensa quando si guarda la sua carta 86 si pensa a qualcosa di fantastico Ames è forte ma non così bestiale 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 sono invece gli attaccanti Da una parte troviamo Victor Ibarbo 12 partite 17 gole e 6 assist Pagato solamente 1500 crediti E poi questo giocatore che ho scoperto da pochissimo Che ragazzi Mamma mia quanto mi esalta Rodrigo Moreno Machado 7 partite 11 gole e 11 assist Anche lui viene dal Benfica Ragazzi è una bestia Soprattutto perché Mancino Trovandosi sulla fase destra Molto spesso e molto volentieri I tiri li farà di sinistro E essendo Mancino Fa dei tiri veramente fenomenali E ragazzi Questa qua è la squadra Spero che vi piaccia Mi raccomando Fatela e date un feedback Vi posso assicurare che è una bestia E ve lo dimostrerò adesso Andando a fare due partite E ragazzi Ahimè Non posso portarvi appunto le clip di gioco Perché ho appena notato che le ho registrate E non mi sono andate Comunque Quindi cioè si è perso il file Mi dispiace un malcello Comunque vi posso assicurare Che questa squadra È fortissima Con la F E le altre lettere maiuscole Provatela Assolutamente Se potete lasciate un bel mi piace C'è il terremacella Superare i 5000 Perché alla fine Vi posso assicurare che questo È uno dei miei migliori squad builder Considerando anche che ha due giocatori toti E quindi Detto questo Ci si sente Tra pochissimo O meglio Uno o due giorni Con il trailer Del mio montaggio Che sarà su Call of Duty E poi ci saranno due video Con due ospiti super speciali E detto questo Io vi saluto E vi dico potente A parlare Nel prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti